Il mio lavoro è portare una tecnica medievale ai tempi moderni. La vetrata artistica sostanzialmente è un gioco di linee, colori e luci. La nostra è un'azienda artigiana tramandata dai padri in figlio a fine giorni nostri. Su disegno, lavoriamo sia su disegno che su idee nostre. È un'alchimia tra la tradizione e l'innovazione. È la lavorazione del vetro vecchia di centinaia di anni rivista in chiave moderna. L'obiettivo dell'azienda è quello di dar spazio ai giovani, tant'è che il nostro team è composto di ragazzi e ragazze che lavorano il vetro e provengono da tutte le parti del mondo. La nostra filosofia è quella, se trasformi non sprechi. Dico sempre a tutti, la collezione Ramos Salso è già dentro il tuo armadio. Basta che tu mi porti il tuo capo di abbigliamento e io te lo rinnovo. Ho scelto di occuparmi di restauro per coltivare una passione che ho sempre avuto per la storia dell'arte. Ciao!